Sport, aggregazione, divertimento ma anche promozione della mobilità dolce e sostenibile per una maggior vivibilità e salubrità dei centri urbani nel rispetto della natura e dell'ambiente. Questo lo spirito di BimBimBici, uno stile da far proprio sin da piccoli. La manifestazione nazionale organizzata da FIAB, giunta quest'anno alla sua 21esima edizione, torna domenica 14 maggio con la consueta pedalata in sicurezza per famiglie e bambini attraverso le principali strade e parchi della città. Per la pioggia ricordo il botto del fondatore dei giovani esploratori, Lord Baden Powell, che diceva e dice che non esiste tempo cattivo ma cattivo equipaggiamento. Quindi eventualmente se minaccia il tempo, Mantellina o Keyway per esempio. Ma quindi aspettiamo tutti i bambini e i loro genitori e chi vuole alle 9 e mezzo al parco Ducci, davanti ai carabinieri, lato pagoda, partiremo alle 10. Lì ci sarà poi un giro di circa 10 chilometri con la scorta della Polizia Municipale e dei volontari FIAB. Il tema della mobilità sostenibile sarà anche oggetto del convegno Attenzione ai bambini in città, che sabato 20 maggio concluderà il progetto Muoviamoci Insieme, finanziato dal bando del Ministero dell'Istruzione sulla transizione ecologica delle scuole e dal comune di Arezzo. Siamo riuscite a coinvolgere nel corso dell'anno scolastico circa 140 bambini che quotidianamente prendono parte alle varie linee di piedi bus che sono state attivate in città. Sono 9 linee che vedono appunto coinvolti numerosi bimbi tutti i giorni per compiere il tragitto casa-scuola a piedi, ovviamente accompagnati dai genitori. Quindi per ogni bambino che partecipa al progetto c'è una famiglia, c'è un genitore che partecipa attivamente, che collabora e che ci crede. Anche in questo anno abbiamo portato avanti attraverso il piedi bus e attraverso iniziative all'interno delle scuole proprio l'attuazione di iniziative che proprio indicano quanto in realtà sia funzionale l'arrivo a piedi oppure in bice alle scuole. Questo per due motivi, uno sicuramente ambientale, quello di eliminare macchine ferme incolonnate davanti alle scuole e il secondo sicuramente quello della sicurezza.